Verso le 9 abbiamo sentito un grande botto e ci siamo precipitati fuori e in quel momento il marito stava soccorrendo la moglie. Purtroppo si è capita che la situazione non era semplice. I soccorritori del SUEM 118 non hanno potuto fare nulla per salvare Monica Bordin, 57 anni, di Montebelluna, travolta da un'auto questa mattina lungo via Spada, a Fanzolo di Vedelago. La donna che lavorava come dipendente proprio dell'ospedale di Montebelluna era in bicicletta diretta verso Fanzolo. Poco più avanti, sempre in bici, il marito. Improvvisamente la 57enne avrebbe lasciato la pista ciclabile portandosi in strada dove una jeep che procedeva verso Montebelluna condotta da un suo coetaneo l'ha travolta senza avere neppure il tempo di frenare. Abbiamo visto una macchina parcheggiata là, il conducente disperato, anche lui, che non si dava pace. Come possa essere accaduto che Monica sia uscita dalla pista senza accoggersi dell'auto che sopraggiungeva dal senso opposto, saranno i carabinieri a cercare di chiarirlo. Una strada in cui solitamente le auto viaggiano a forte velocità via Spada, ma non sarebbe questo il caso. È un peccato perché di solito sì, è trafficatissima veramente, ma questa mattina era proprio tranquilla, non c'era nessuno per la strada. È un peccato, è una tragedia così, veramente. Non ce la spieghiamo proprio. Non riesco a spiegarmi come sia successo perché la pista ciclabile è in sicurezza e non riesco a capire come mai questa signora sia stata uscita dalla pista ciclabile e sia andata addosso a un veicolo che proveniva nel senso contrario. Veramente ci dispiace per questa signora perché tra l'altro è anche molto giovane, esprimiamo le condoglianze alla famiglia, adesso le autorità faranno i rilievi del caso perché veramente non riusciamo a capire come sia successa una cosa di questo tipo.